Mettere in sicurezza il porto piccolo di Siracusa, pescatori e operatori in difficoltà anche per le conseguenze che seguono ad ogni tempesta di vento o maltempo. Una richiesta all'assessorato regionale delle infrastrutture per cercare una soluzione all'annoso problema. Il porto piccolo di Siracusa è una grande speranza per il futuro in questo momento però è un problema per tutti i pescatori e per tutti coloro i quali hanno le barche che attraccano in questo porto. Per questo motivo nel mese di settembre sono stato contattato da parte di coloro i quali gestiscono alcune strutture e da parte di coloro i quali hanno dei pescarecci all'interno del porto piccolo per trovare una soluzione. Mi sono attivato immediatamente insieme al consigliere comunale Castagnino e Delotta abbiamo fatto una dettagliata richiesta alla Capitineria di Porto in maniera tale che si potesse attivare le procedure. Perché vedete il problema vero è che qui si parla sempre di finanziamenti, si parla sempre di progetti ma si parla sempre di aria fritta. Cioè nel senso che o vi sono le strutture che devono fare i progetti oppure di nulla stiamo parlando. Per questo motivo la Capitineria di Porto correttamente, devo riconoscere, si è attivata immediatamente. Ha già scritto sia l'assessorato territorio ambiente quanto l'assessorato all'infrastruttura come era giusto che fosse perché ripeto le cose si fanno sempre in maniera ufficiale. Per questo motivo già martedì abbiamo avuto presso l'assessorato all'infrastruttura una prima riunione e l'ufficio del genio civile di Siracusa, nelle persone del suo ingegnere Capo, è stato incaricato ufficialmente di predisporre un progetto per mettere in sicurezza il porto piccolo di Siracusa. Stamattina sono venuto a rappresentare agli operatori del porto quella che è la reale situazione, ho consegnato loro la lettera. Lunedì a mezzogiorno io, loro invece martedì, sempre allo stesso orario, vi sarà un successivo incontro al genio civile in maniera tale che io rappresenterò le esigenze pervenute dalla riunione e dalla conferenza di servizio delle nostre da Palermo, loro esporranno all'ingegnere Capo del genio civile, ripeto che è stato incaricato della progettazione, quelle che sono le problematiche soprattutto durante il periodo invernale che rendono difficile l'utilizzo di questo meraviglioso porto.